e rimediare qui boh ragazzi oggi vi insegno come si gioca a shako oggi vi insegno come si gioca a shako è inutile far vedere la mastery 6 ce l'abbiamo tutti qua anche se non ho il tasto pronto perchè l'ho cambiato quando ero a romix che volevo spammare la mastery e non c'era il tastino laterale e quindi adesso communication mastery mode boom ah giusto perché dove è si mi ricordo quando l'hai cambiato a romix l'ho dovuta cambiare perchè non spammare perchè non spammare la mastery poi l'ho trovato il motivo ci fa vedere aspetta e mettiamo uno qua cos'è i ping ah la gente che pinga io non la capisco andiamo un po' bot blaine secondo te sono premade sti due qua chi lo sa chi lo sa qua ragazzi faccio il 2-2 senza smite ve lo insegno shago oddio che c'è shago staff staff non capisco linguaggi strani ok ok squid what the fuck non sto capendo oh attenzione xd da dove è apparsa ah c'era oh ma mi stanno trollando mi stanno trollando è l'unica rip ma che cosa che cosa ne so io ok io direi ok basta digli ok e risolvi tutto tranquillo perchè c'ho tipo la chat lì aspetta devo cambiare tutto non era qua era tipo più in alto tipo qua perchè vedi oh ok va bene perchè c'era tipo la nuvoletta davanti non so perchè vabbè la qualità ragazzi la qualità ah huge quality come potete vedere ragazzi sto facendo tutto il campo senza utilizzare lo smite c'è tutta la parte del blu senza usare lo smite e è qualità questa è qualità vero clap è qualità qualità oro 10 così adesso c'ho due smite potrei farmi bot oddio uh il grab ah l'exos su morgana precisare meglio è lui mamma mia ragazzi devastati da quando in qua la bot ne prende due kill subito eh c'ha la master i7 clap non trust nella master i7 clap tu non trust nella master i7 mi dicono io non credo nelle istituzioni ok we vieni giarvazio vieni ok che c'è giarvazio lì eh prendilo prendilo flancalo eccolo manca il 2 ma cosa fa non l'ho preso boh salve non avevo visto che era il 2 giuro che lo fightavo io pensavo fosse al 3 che mi avevi invaso lì così vabbè no no ha proprio fatto il suo red e poi venuto lì da te a caso molto bravo appiazziamo le 2 box lì questi ragazzi sono le tecniche dei veri main shako come me ah sono morto non è vero arrivo salto perché non avevo il sa quasi mamma mia cosa vuole questo esattamente eh non ci arrivo fino a lì non ci arrivo vabbè dai adesso mi vuole malissimo no no se arriva l'ho shotto io eh katylin dice boosted perché darius la bot lane ok riscambiano la double kill una double kill a testa fanno uno per uno così rimangono di farm uguale e farmola più velocemente ottimo guarda il chase in bot lane dai così dà la kill al mid laner giusto non sono troppo fidati in bot così oh ecco visto te l'ho detto Vega sarà felicissimo è andato a dare la kill al mid laner clap shotalo col tuo thunder lord cosa aspetti vabbè eh cazzo mi esplode eh cosa eh non volevo non ho detto nulla clap è maleducato come pochi ragazzi io non lo so t'hanno proprio abituato male lasciatelo dire eh non so chi ti abbia insegnato a parlare così ma sei nello streaming sbagliato se vuoi dire le parlacce mi ha insegnato rovazzi bot lane li vedo belli main adesso abbiamo fatto double kill proprio per fortuna hanno avuto fortuna la grabbata sotto double kill potrei se ci fosse il top laner si adesso non ti torna io so ho capito io devo andare back per prendere il teamat ahhh ahhh vai shuttle c'è il thunder lord qual è il problema ecco è partito è partito addio ha flashato il flash fa danni non dire parlacce ma fa danni stupide però non si dicono le parlacce eh fedario se lo dice lui 1% critico ah si mi ha critico è vero è giusto eh vedi lui c'ha delle tecniche che tu non hai penso se l'avessi l'1% di critico eh a quest'ora non sarebbe non sarebbe lì lunedì no non sarebbe lunedì sarebbe martedì magari bella fieric bella 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 non mi raccio tutti che spammano ritardo spammate ritardo ragazzi che è quello che ha clap ma te would kill you any without anyways xd vabbè tanto distrutto non so quanti giorni tipo da due settimane che non giocavo in lane clap ragazzi è una qualità assurda con una sicurezza quality player mid e fa dei discreti danni uh attenzione attenzione per mai top non l'uccido più mai ma nella vita l'uccino dopo darius fa i danni della maronne uh attenzione eh non riesco ad aiutarti in nessun modo ma c'è anche kennel addirittura eh si fanno il drake eh si non gli dico ah c'ho lo smite più potente però senza il livello 6 che cosa gli dico salve che si dice ha il tp ha il tp ha il tp no troppo no però l'ho appena distrutto shhh io ho mostrato la mainanza lo distruggo questo adesso devo spammare la maestria fino alla morte no mi shotta ho finito il mana io è finito male no ho finito il mana il mana ho capito ho finito male ho capito te mori e te ti becchi il fear oh attenzione caitlin come ho fatto non lo so con la mastery con la mastery 7 l'ho ucciso c'era anche l'assist di lucian oltretutto quel drake ah easy solo vabbè era da sole effettivamente per quello che ce l'ha fatta altrimenti sembra stato un po' difficile sì e pensa alla tua mid lane prima di pingarmi il blu che c'ha i 47 ondate ora le mo che si fa le wave può venire a farsi il blu però i minion piccoli non te li lascio mi dispiace molto bravo vediamo un po' top lane nel clap come se la cava e clap lo distruggi sto sfondando per vincebacco distruggilo per dendirindina lo faccio subito vai vai eeeh quando lo fai avvertimi che così ti guardo ok quando hai intenzione di disfarlo non sto giocando perché non ho la ulti appena torno appena di nuovo la ulti lo sfondo vengo verso top ah no sta arrivando veigar attenzione arriva veigar non è possibile bottele li vedo bene ragazzi apposta eccolo eccolo dai ma lui ho sciotta uh peccato mamma mia uno più main dell'altro è stata una bella azione non poto fare nulla non avevo nulla anche in bottele li vedo bene ragazzi molto bravi qualità vabbè vabbè non imposto oh attenzione flash distrutta distrutta non se l'aspettava clapping bottele non se l'aspettava ma neanche top se l'aspettava manco un top non se l'aspettava nessuno incredibile la gente deve imparare ad aspettare c'è niente da fare cazzo main darius well veigar attenzione well veigar l'aveva visto anche mia nonna che stava arrivando in bottele in quello lì ma loro sta mettendo la guarda ok l'aveva scritto ok 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 faccio di cazzo molto brava questa morgana devo dire molto molto brava dai che la tirovi in tempo niente mannaggia me ok ho il tp up adesso e e shottalo niente all'aki vattene cherso epico clap scappa finito malissimo dojo e ha flashato darius di là ottimo eh sta arrivando anche ken ma tanto ah no è qua mi ha ultato è morto mi ha ultato wow distruttivo ma e ranked sì e ranked dove i cane non lo so non lo so non c'è non c'è non lo so i cane non c'è oh botto se la sente uno e basta uno e basta uno e basta sto pensando che scarpe farmi potrei farmi eh le scarpe armor servono facciamoceli subito facciamoceli subito ah in botto ne sono un disastro alla fin dei conti chiedi ne è 3-4 abbiamo capito da tutto ciò che bot sono un disastro io sto 3-0 vabbè normale punteggio che ho oh il flash eh sto arrivando e non c'è andare in bocca però anche te scusami sacco di me sacco di me sì vengare è proprio un po' stupido cioè gli hanno dato in bocca proprio a Jarvan vabbè frizziamogliela ok lui è quasi morto guarda il sudore senza vita però non so se ha il flash questo è il problema se ha il flash e gli schiotano ma quanto mi toglie sto affare qua ma cos'è ma che scherziamo ma che stiamo scherziamo Morgana Toplin flamma la botlane flamma 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 you can't for the ping ecco appreciated appreciated ragazzi appreciated perché sicuramente faceva l'SS in botlane tu t'aspettai che arrivava Morgana Top eh sì guarda botlane invece 10 persone Dario spende le chi eh attenzione e ora lo dicono a te oddio me lo son pe non ho visto il flash number one ah oh siamo 15-10 io sono tra 0 mi piace sta situazione non me well Veigar riparta attenzione Veigar è tutta colpa di Veigar ragazzi ricordatevelo sempre perché mi appagliono sti cosi qua 2v4 2v3 the all time ah non lo so io beh 2v4 ormai è la prima volta 2v4 Dario se non ha mai tippato bot Veigar glielo dovrei lasciare il blu teoricamente ma eh però anche scaler da P quindi stava partendo di Rabano quindi sì direi che lo vuole a tutti i costi eh se lo vuole ma si dai adesso fa di danni stupidi adesso se lo merita in fine dei conti mi rende conto quali conti Carlo Conti uh questo qua è però mi shot io esplodo in decimo di secondo con quello per il cibacco lui ha startato di Black Cleaver davvero ma è par di Black Cleaver FK per uh mi sa che ora ci muore o ha fatto la cazzata lui eh io non potevo fare nulla c'ho over cannon dietro ah 1v1 proprio non trovo più il cursore non so per quale motivo era sparito il cursore Packing I'm out niente altro team di mad come ieri eh frame Mitch 1 per vegar und du bist tot si 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 io direi di si eh ragione ragazzo come fai a dargli torto purello poveraccio io non ho parole 3 e 6 1 e 6 quality bot lane anch'io sarei alterato in quel caso perchè clap raccontaci ah si no perchè succede che non vieni diciamo vieni sittato da 6 persone in bot no e quindi ecco come dargli torto c'è voglio dire ma vegar almeno sta farmando oh almeno c'ha 4 di farmi in più pensavo peggio sinceramente considerando che kennel starà armando uh bravo uh il flash non si aspettava no ma visto mannaggiano armando 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 permesso ottimo ok non ma attenzione quanta gente quanta gente lo faccio per silvio vai la lanterna ma perchè a me perchè l'exhaust uh preso oh vada oh la coppia vai vai distruggi distruggi tu oh oh ottimo distrutti li abbiamo uccisi quanti in 4 li abbiamo uccisi il drake non era meglio la torre mid vabbè forse si vabbè chi siamo noi per giudicare esatto chi siamo noi eh intanto la bussia legger tranquillo ma vado anche io a bussiarla tuorri via happy eeeh wooo ah me lo grabba così proprio red up il mio red è up vabbè no vado vado back e poi lo vado a prendere red uh il niga non si dice niga come ti permetti no niga no niga si può dire non è mica un insulto deriva da niger niga è tipo la censura di la censura è come dire cavolo che sta per significare un'altra cosa c'è comunque attenzione oh sta catering qua sta catering qua niente aveva abbastanza danno comunque i sporchi danni le fa no mi son fatto vedere no non mi ha visto eh clap cosa sta combinando arrivo top dai sei due livelli sopra sfondalo bravo provo a saltare via perchè mi uccide tranquillo è la ulti anche lui io non avevo ho già usato un po' di spell ecco olé attenzione attenzione troppi troppi scappa 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 quanta gente what non pensare a me non può farmi nulla quello ok bello quel thing che trovo sto aiuterà un sacco bellissimo non sta capendo non capiscono no vabbè non pensavo questo non me l'aspettavo la me ok sei morto non me l'aspettavo che mi stunnasse da invisibile è vero comunque e invece purtroppo è successo allora ragazzi si scopriano cose nuove sono 6-1 dopo 6 kg in platino 3 col main potrò morire posso permettermelo ma come fa lo slalom ma oh hai presente quando ti fai prendere proprio precisa precisa al litile la ruspa si vuole far sentire vai ruspali tutti 2 1 ruspa bravo e me ne ricorrono tanto non lo sapevi me ne ricorrono vabbè guarda bolt guarda us and bolt la miseria miseriaccia o come direbbe gane perché dingy potrebbe essere un game difficile e non lo dico perché sono l'unico fidato io sono un bello grande no non è vero sono anch'io fidato che cazzo dici si è vero io faccio i bughi guarda quari oggetti che ho buca buca ruspo adesso per me devo andare da qua non muoio sicuro ah veigar che item ha c'ha rabaddon uh quel darius lì dove sono io ok sono qua mi sono visto finalmente ma sta succedendo lì cos'è quel casino madonna è one shot dove è veigar che preme r è one shot a morgana quello ok posso continuare a push allora c'è una ward qua c'è una ward non c'è una ward fantastico pusha di mid si 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 pusha o mid vai continua continua eh quello lì c'è the push non abbiamo modo per cioè non è che gli iniziamo a modo esploso quasi questo ci scorreggio in testa aspetta dai mi arriva qualcuno ma quell'usione ah cazzo l'usione è 7-2 io me lo stavo guardi facendo questo è bello ma poi gentilmente morire grazie mi ha shottato Kennen l'ho detto che Kennen ci ci raspava cioè guarda che fa dei danni perché si è riacceso il telefono magicamente è stata una vita spento ne lo divi vado lì qua no ma che guarda i danni che subisce ma non se ne sta rendendo conto dei danni che subisce ah no il telefono di casa ah è quello di casa c'è da random se c'è si è da romix l'avrà acceso mia nonna per sbaglio che cavolo ne so dopo lo spingo però mi dipende in giro veramente cazzo non era word cosa cosa ma se non smetti di dire parolacce che la più ti caccia dello streaming chiamo la polizia non dire parolacce chiamo la polizia allora fatto questo mi sembra un po' di magic resist altrimenti Kennen mi stompa quindi ci compriamo la magic resist ti stompa esatto non ti puoi far stompare da Kennen assolutamente mi dicono che cavolo sta succedendo tu sei il 14 ma Darius è l'11 ma che schifo ma penso alla propria sto Darius si Darius fa schifo infatti è Kennen il problema arrivava in lane spammava maestria poi moriva c'aveva l'1% di crit vorrei vedere come fai a non spammarla con 1% di crit vediamo qua oh ci sono le uova oh eccola qua bella de fuori oltra tutto la E di di Kaden veramente bella dunque e niente Vega aveva 2700 gold veramente è una zona io dovrei split push un attimo top ma c'è il Drake allora tira via sto ondata qua e così metto in push la lane e andiamo a farci il Drake ti piace Clap come idea? sempre se non muoiono prima cosa molto rubabile dai io confido in loro tanto sto già tornando non muovete please sto arrivando ecco di poco veniva presa e moriva che drago è questo? ah quello d'acqua eccolo eccolo c'è finito dentro arrivederci affamide posso shottare qualcuno? posso shottare qualcuno? no non posso shottare nessuno sono morto io niente aveva fatto il best bait a west nel bush da riuscire esploso eeeh bello dovevi andare distrutto meno male che c'è a noi clap meno male che c'è a noi ah quel Drake lì adesso ce ne apropiamo subito non volevo farmi la gangbang a me senza motivo mi sono permesso come se io fossi il pericolo di questo team io boh io veramente boh eeeh distruggilo ti sfonda e ti sfonda Kennen aveva ancora la ulti? Kennen ha un fightato mezz'ora Kennen aveva ancora la ulti ma il bello è che non l'abbiamo fightato cioè non mi sono tanto me e basta è un mezzo fight perché comunque cioè è stato un po' di casino vabbè amen non importa vabbè vediamo un po' cosa possiamo tirar fuori uh questa buona contro Kennen che figo clap oh ah meno male le fan grill immagino i fan boy immagino i più fanzi eeeh vediamo un po' cosa potrei buildare non so se chiudermi direttamente al mal morto secondo me è una bella idea perché alla fine l'armor è quella che ho sì devo chiudermela attenzione il flash eh ci sarebbe schiantato li ha fatto bene ha fatto bene allora clap per uno mi ascolti andiamoci con calma stavolta dobbiamo andare quello lì ancora è ancora l'undici dars non ce la fa mica salire io shot io shot una cosa mostruosa uh one shot niente attenzione mamma mia non è riuscito ad andarci davanti che quality team engage ebico ho finito malissimo cos'è cos'è no cazzo e vabbè chi ho ucciso perchè ho ucciso chi è che ho ucciso lì stavo fightando contro qualcuno yours dell'anenemy quando dove come beh quello lì si è reso a box cos'è perché state io busho mid se morite poi è colpa vostra esatto peccato che stiamo facendo le kill e non morendo non è vero dice bugie vabbè l'inibitor mid ce la fatti tra lo giù non penso aia fa male cazzo cosa aiuto clap è maleducato io non registro più tutto con te clap non è possibile non mi avevo più in stream sei maleducato lo vuoi capire o no scambio di flash eh beh niente ha avuto culo cosa devi smettere di dire parolacce ma io ragazzi non posso giocare con clap dopo dopo lo muto perché ce la faccio e tu no vedi vedi quanto sei maleducato ha avuto dell'etano allora ok ha avuto ah no anzi proprio così ha avuto fortuna non è difficile oh è quello cosa vuol fare sciottalo non lo so sto un po' sfondando così tranquillamente oh la box non se l'aspettava la box facciamoci una coppia ok va io direi che ci dobbiamo andare adesso no no c'è la mia coppia guarda 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 eh bravissimo gli faccio la master in testa spondalo ah no non voglio morire sono il tank non devo morire eh niente vabbè è arrivato cannon ah quasi dai che ci muo ci muo c'ha red c'ha l'ignite è vivo non è morto non ho parole no ah non lo so impossible impossible game questa ce l'abbiamo the impossible game che ti ne riesci a fare ancora schifo cioè incredibile ormai la raggiungo di farmi te ne rendi conto 136 vabbè Darius 119 non ne parliamo sto a 98 quindi oh tipi Darius la platino 2 effettivamente lo era se poi la realtà nei fatti puzza non sappiamo cosa dire eh puzza parecchio ah ragazzi leggiamo un po' la chat ah cazzo quanta gente che vedo adesso ha l'amazon prime lì il twitch prime perché c'è un sacco di gente ha amazon prime quindi il fatto che hanno collegato questa cosa qua ottimo un sacco di gente ha twitch prime ottimo uh attenzione Darius va a guardare buono buono così come permette buono così dobbiamo forzare il baron ha detto andiamo a farlo direttamente hanno appena guardato come dici clap no dico c'è la pink qui no perché non prende fino a qua la eh non è abbastanza uh qualcuno mid eh in questo punto il baron si dovrebbe fare voleva shottare Darius uh dove ti pare non è vero lo cancello scendo a piedi scendo a piedi guarda lui fa abbastanza danni eh mi sa che Kenny l'ha flashato lo sfondo lo sfondo lo sfondo ok a posto eh mi fai abbastanza danni bru non ho paura tolto easy no vabbè ma che che cavolo di fortuna c'ha che diamine di fortuna ma dov'è ecco lo sapevo che era lì dentro ogni quanto ce l'ha la Q non è possibile non è possibile con Shaco non riesce a prendere Morgana ma c'ha le mobility no c'ha le Mercury no Axe vabbè 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 10-4-8 sto meno il QD è buono gnota combo strane avvengono così a caso io devo fare tutto il giro perché stavo morendo stavo morello i ragazzi mi sa che la do speedpushare top olleh vai sciottala sciottala bravo sciottala sciottala vai 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 zà 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 attacchi attacchi Che fortuna Che fortuna che hai te Che ti stai salvando Doge Bravo Ottimo E' sparito Che skill Che skill Hai visto Veigar Proprio zà ha fatto Ha fatto il master dodge qui Molto bravo Pingano il Baron Ragazzi Venti a farlo Inutile che pingate Se ci sono io E non è che lo faccio da solo Attenzione Gui solo lo sciaco Vai te l'ha chiamato Ha detto che lo fate da soli Va bene Trusta trust Trusta nel team Trusta in te Nel cuore mio Diciamo che Shuttle jungler Così siamo sicuri Che non viene a rompere Le scatole Ok adesso Vado veramente da soli Ma si dai Andiamo Veigar penso faccia Quanta PA Veigar Troppo 1052 1052 Eh ma Vabbè Vabbè ma il blu adesso C'è Vuoi mettere il blu Che c'è adesso Che ti da E' un mezzo Rabadon C'è guarda Le suoi cus Sono uno smite Vabbè Non più vale Ragazzi Clap 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 Devo smettere Ehm Sa forse di si Sa forse che sono morto Sì Preso Ce l'ho fatta Solo We solo We solo Sì Ma se sono tutti vivi Come facciamo a farlo da solo Fate qualcosa Per Cioè Lui lo facciamo da solo Quando gli altri sono impegnati Se stanno a far male Non è un impegno Non so Non so cosa stavano facendo So che stanno arrivati Sono arrivati Oddio Il Michael si è usata Brava Molto abile sta Morgana Hai detto Hai detto la parola segreta Non la potevi dire quella parola Michael Quindi permetti No hai detto Che gli altri stanno in mente Noi che cazzo Facciamo Davvero Andiamo alla chat Qualcuno me lo farà notare Lick Lick Mi piace ma sei troppo volgare Non puoi fare proprio lo streamer A stare con Clap ragazzi Si diventa così Non fatelo voi Allontanatelo Eh Ma ha preso anche la torre in mid Che qualità Come ho detto questa gente E boh Ma perché non hanno ancora sorrendato Io non capisco Abbiamo Ah abbiamo tre dick d'acqua Ti è venuto È vero Nope 22 Attenzione Uno dice di sì L'altro dice 22 Chi avrà ragione Esci in marciapiede L'altro lol Marciapiede ragazzi Marciapiede Razzista Quello che lancia i razzi È veramente troppo forte la Malmortius Cioè fa veramente dei danni assurdi Prendiamo back Prendiamo questa La dead man's plate Ma è meglio in culore Cosa? Non si dice Non so cosa hai fatto Però non si dice Il fatto è Redbuff A cosa A J4 Ottimo Maestria Top is being pushed Group Gruppiamo Dobbiamo andare a prendere quello bot Ce la facciamo A prendere questo Cosa? Quello cosa? L'inibitor Visto che c'è un inibitor Ho scoperto No Adesso che livello è? 14 dai Piano piano Molto piano piano Mi sa che Dobbiamo aspettare gli altri Verosì Sennò moriamo Gli altri chi? Chi manca? Ecco Fatto Manca Veigar Che fa per 6 Veigar ha appena shotato Kennen Club Ma dove stai guardando? No 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 ho detto Vabbè No ma È bilanciato Il fatto che Scali in AP Adesso il danno Alle strutture Distrutto Oh Dove vuoi andare Mamma mia Quadra kill Non ha fatto niente tutta la partita Fa qua Stava a 8-12 Ma sta a 12-12 Fa vedere la Mastri È stata bravissima No Buona penta? No È stato esploso da Veigar Aspettiamo i minion Adesso arriva Kennen Signore Attenzione La Chakobot È easy Bello con la stun Ottimo Il KDA sale Il KDA sale Ragazzi No Ok Falla salire Falla salire Lo sto facendo salire Basta Fine Molto bravi Ah Adesso la Mastri La posso spammare anche qua Perfetto Molto bene Ah Ah Il KDA sale